Archiviata la sconfitta per 3-0 in finale di Supercopa, quindi archiviata la delusione, Rubrica Rossonera torna a parlare di presente, torna a parlare di futuro del Milan e nei più in generale in questo video di Calci Italiano. Calci Italiano che è in difficoltà, Calci Italiano che non rappresenta più una delle principali leghe, ma una lega che negli anni ha perso sempre più fascino, ha perso sempre più seguito ed è scalata indietro nelle gerarchie. Con questa Premier League che sta dominando in lungo e in largo per appeal, per forza economica, per capacità di attrarre il talento. E quindi la Serie A che deve fare grandi riflessioni, chi gestisce, chi governa, la Serie A deve fare grandi riflessioni, perché non è una debolezza Milan, non è una debolezza Inter, non è una debolezza Juventus, ma è una debolezza di sistema. Ovviamente dico queste squadre qui, possiamo citare anche Napoli, Roma, Lazio, che in qualche modo con l'Atalanta condividono le posizioni alte della classifica, che sono le società che poi in qualche modo la loro competitività, la loro sfida tra loro, permette di generare appeal a tutto il sistema calcio. È un sistema calcio che va riformato, è un sistema calcio che va in qualche modo rivoluzionato, perché, come dicevo prima, ha perso tanto appeal, perché c'è stato tantissima, c'è stato un cambio, un turnover di persone al vertice sempre alto, molti scandali che hanno poi compromesso l'immagine. E quindi tutte queste situazioni, queste varie situazioni che possiamo in qualche modo approfondire, se piace il tema, e fatemelo sapere nei commenti, ci sono tante situazioni che hanno portato a una perdita di valore della Serie A, quindi ha uno scarso appeal di sponsor, uno scarso appeal anche da parte dei grandi campioni. E soprattutto le infrastrutture, un tema cruciale, il mancato, con la mancata costruzione di nuove infrastrutture, ha in qualche modo rallentato, addirittura stoppato in alcune realtà anche l'aumento dei ricavi, e quindi la crescita organica dei club. Perché parlo di questo? Perché il mancato rinnovo di Skriniar attualmente, al 20 gennaio, molte fonti autorevoli parlano di un mancato rinnovo di Skriniar, in qualche modo è correlato, e c'è un parallelo forte in casa rossolera, visto che Milan ha perso Cerenoglu, ha perso Chessy, ha perso Donnarumma, ha perso Romagnoli, ha parametro zero. Per Lidi, per realtà, per campiati esteri, in cui veniva offerto ingaggi superiori, commissioni ricche, commissioni agenti, nel caso specifico di Chessyre, nel caso specifico di Donnarumma. E quindi è un problema di sistema. Basti pensare che il giocatore Milan Skriniar ha ricevuto un'offerta dai 10 ai 15 milioni di euro stagione, dico dai 10 ai 15 in base ai bonus che possono essere o meno raggiunti dal calciatore, più pensate una commissione che mi dicono, l'equipe l'ha sottolineata oggi, nel quotidiano di oggi, di circa 20 milioni di euro alla gente. Pensate, una cifra davvero esorbitante, una cifra che un club italiano non potrebbe assolutamente permettersi. Quindi, ribadisco, questa notizia dell'equipe parla di un Milan Skriniar che ha detto no all'Inter, ha detto no al rinnovo con la squadra nera-azzurra, ha detto sì al Pressinger Man con questa offerta davvero, davvero clamorosa, davvero pazzesca. Staremo a vedere se i cugini saranno molto più abili di noi, molto più bravi di noi, dopo che il giocatore comunicherà probabilmente in via ufficiale alla dirigenza la volontà di non rinnovare, se sarà capace o meno di venderlo al Pressinger Man, anche una cifra magari modica, magari 15-20 milioni, però in qualche modo monetizzare, non perdere proprio un giocatore davvero forte, davvero importante come Milan Skriniar appunto per i nera-azzurri. Quindi è un problema di sistema. In qualche modo l'avvento di nuove proprietà, i nuovi management, nuove capacità di generare ricavi, devono essere secondo me accompagnati da un sistema paese, un sistema politico, un sistema gestionale del calcio italiano che vada di pari passo e che possa permettere uno sviluppo tramite infrastrutture, tramite un controllo più rigido delle regole. Ecco che parlo di regole, ecco che parlo di come gli scandali, qui mi ricollego al caso Juve, in cui conosco poco, quindi non voglio tirare in mezzo, non voglio in qualche modo colpevolizzare nessuno, però facendo cronaca, oggi, lo sapete tutti, il procuratore della FGC, Giuseppe Chine, ha chiesto nove punti di penalizzazione alla Juventus, alla corte della FGC, quindi la corte della FGC che sarà chiamata a valutare la riapertura del processo sportivo per le plusvalenze dopo la richiesta di rievocazione, di sentenza, di archiviazione. Quindi abbiamo un sistema che soffre anche di questi continui scandali, di continui, in qualche modo, possiamo dire, di queste continue turbolenze che ovviamente non fanno bene alla PIL del calcio italiano, non fanno bene a tutto il sistema che ovviamente porta ad allontanarsi i potenziali investitori che vedono comunque una Lega che se dovesse dare nove punti di penalizzazione alla Juve, il campionato sarebbe palesemente falsato, sarebbe palesemente in qualche modo in difficoltà. Abbiamo il caso Sampdoria che fa fatica appunto a continuare, in qualche modo sembra a continuare l'operatività, la gestione corrente, dichiarazioni della Presidente attuale, e quindi abbiamo tanti scandali, tante situazioni, diciamo, di difficoltà che ovviamente non fanno bene al calcio italiano. Pensate, ricollegandomi alla Juve, che sono dichiesti 16 mesi di inibizioni per Agnelli, 20 mesi e 10 giorni per Paratici, 10 mesi per Cherubini, 12 mesi per tutti gli altri consiglieri. Queste notizie amplificate, magari marroni portate all'estero, ovviamente non descrivono a pieno il calcio italiano, lo screditano in maniera importante. Basti pensare che negli altri campionati, soprattutto nel campionato di Premier League, che rappresenta la vera Superlega, in questo momento basti vedere quelli che sono i volumi di affari che già nel mercato di gennaio vengono in qualche modo tirati in ballo. Ecco, detto questo, questi scandali non fanno bene, quindi c'è tanta solidarietà all'Inter per il mancato risinnovo di screener, vedremo se poi sarà una fake news e riuscirà a rinnovare, ovviamente però è un problema di sistema, di sistema globale del calcio italiano. Quando parlo poi di crisi, di crisi, basti vedere anche quello che è il titolo oggi della Gazzetta, la crisi del Milan, tutti sotto esame, ecco qui che mi ricollego al mondo rossonero, al mondo che poi noi tutti viviamo quotidianamente con notizie, con aggiornamenti, con detti lavori internamente a casa Milan. E questo titolo della Gazzetta dello Sport mi spiazza perché viene citato proprio in prima pagina, lo vedete, Cardinale avvisa anche Maldini e Pioli, ha annullato l'incontro per la firma di Leao. Cardinale non ha mai messo in discussione l'operato della dirigenza, non ha mai messo in discussione l'operato del Natore. Mi dicono anche che per il nuovo di Leao si è dato priorità, visto che un momento è delicato, dopo la partita con Lazio. Quindi non ci sono queste notizie, non ci deve essere questo pessimismo, ci devono essere riportate notizie non tanto per vendere giornali, ma devono essere riportate in maniera autorevole, veritiera. Quindi ci dobbiamo discostare, dobbiamo allontanarci da queste fake news che fanno bene, che fanno davvero male al mondo rosso e nero. E poi si sospente le stelle, vanno riaccese. Questo è vero, ci sono giocatori che non sono in forma, ma i giocatori non possono essere valutati per tre o quattro partite sbagliate o comunque neanche sbagliate, perché a Roma bretavamo degli episodi, a Lecce abbiamo comunque ripreso una partita e eravamo sotto 2-0. E quindi il Milan c'è, il Milan c'è deve essere in qualche modo sostenuto, deve essere in qualche modo difeso, deve essere tutelato. Quindi allontaniamoci, non diamo peso a queste fake news. Però ribadisco, la prenotata della Juve, lo inter-screener di difficoltà neri in nuovo, ricchi commissioni dagli agenti da parte dei club stranieri, sono un problema dell'intero sistema. Non è un problema rosso-nero, è un problema di sistema. E poi basta pessimismo, basta fake news nel mondo del calcio. Fatemi sapere amici di Rubrica Rosso Nera cosa ne hai pensato di questa maxi riflessione. E come sempre cliccate like e iscrivetevi al canale YouTube di Rubrica Rosso Nera.